Anche a vedere che cazzo ti danno per noi mila euro di piano. Appunto, Bologna caccia. Non mi rai. Cazzo è una massaggiatura. Non cazzo, non c'è il sistema, non c'è il sistema. Non c'è il sistema, non c'è il sistema. Infatti un po' mi chiuso a girare delle palle fino a spendere 180 euro. Però, io se no vado in treno, posso fare il fattore di treno. Non cazzo è un po' mi chiuso a girare. Ho scopato. 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 Grazie per la visione! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti